Io non sono bulgara, sono italiana Ma amo la Bulgaria e amo il popolo bulgaro Voi avete tutto il mio supporto per questa protesta Perché la Bulgaria merita il meglio Perché la Bulgaria merita il meglio Grazie a tutti 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 No, non è una coincidenza Sono venuta per questo e anche per altre cose Sono stata a Plovdiv a un concerto E poi sono venuta qui a Sofia e sapevo che c'era questa manifestazione e non volevo perderla Non è proprio facile ma ce l'ho messa tutta Che si risolva presto tutta questa situazione e che la Bulgaria abbia ciò che merita È una emozione immensa, grandissima, soprattutto l'inno che è qualcosa di molto legato al cuore delle persone Quindi è una cosa difficile ma bellissima È una sensazione molto simile, molto simile, molto simile e molto simile E prima di tutto l'inno che davano molto simile E' una sensazione molto simile per la nazionale E' una sensazione molto simile Grazie a tutti Grazie a tutti